Corso già tardi, con Salviamo il Salvabile avete raggiunto un obiettivo strameditato che è quello di aver avuto il sold out per la prima l'obiettivo è ripetervi sempre davanti al pubblico amico di casa Sì, sicuramente, intanto vi diremo subito, vi comuniceremo a giorni la data della replica e voglio ringraziare tutti i presenti che ci hanno onorato veramente il 16 gennaio nel nostro spettacolo siamo veramente felici perché abbiamo creato un'alternativa che non è l'alternativa di una serata passata al cinema ecco, noi vi abbiamo dato il vero spettacolo, il che è il teatro e vi invitiamo il 13 febbraio perché ancora continuiamo con la rassegna di sabato a teatro Anche perché in un periodo di crisi che sta attanagliando Gela con i blocchi stradali con la gente che purtroppo ha perso il lavoro, almeno c'è un'oretta, due rette di svago Sì, questo noi vogliamo che la gente lo apprezzi perché al di là di accendere la televisione a vedere queste notizie funeste, almeno un po' di relax mentale ci vuole abbiamo sotto questa egida, abbiamo voluto proporre questa nostra rassegna sabato a teatro con il teatro comico e quindi il 13 febbraio, sabato 13 alle ore 21 porteremo in scena il secondo spettacolo che è per un pizzico di pizzo di Nino Mignè, una commedia divertentissima a portarla in scena sarà un gruppo siciliano ma ai limiti della Sicilia perché vengono da Lipari quindi un gruppo premiatissimo, fra l'altro con tanti palmares nel loro arciere quindi una bella compagnia con un bellissimo spettacolo all'insegna del puro divertimento E per solidarizzare con chi protesta e con chi, come dicevamo, sta perdendo se non l'ha già perso il posto di lavoro, voi avete avuto un'idea Vogliamo consegnare dei biglietti ad alcuni operai così verranno il 13 febbraio a rilassarsi un poco e a non pensare a questa brutta storia E a stemperare gli animi Sicuramente, questo è un momento tristissimo per Gela e perciò il nostro teatro vuole portare due minuti, un paio d'orette di svago Grazie